... Bentornati tutti quanti, oggi 2 luglio 2017, abbiamo terminato il film Un giorno una donna mi disse, sono venute molte comparse ai giardini di Est è venuto anche il sindaco, la dottoressa Roberta Gallana, si è divertita tantissimo Sono qui oggi, domenica, ai giardini del castello Marchionale per fare insieme a dei ragazzi stupendi questa esperienza hanno ripreso, stanno facendo una sceneggiatura molto bella su contenuti molto belli parliamo di valori, di amicizia, parliamo di vita, anche oggi qui a Est Io sono molto aggordiosa di Giacomo, di quello che fa, di quello che è, di tutto e vediamo oggi Gli attori come al solito sono stati superbi Sono divertito, ho incontrato persone nuove, persone diverse, ho partecipato ad un'idea e spero che il risultato sia esattamente come l'esperienza che abbiamo vissuto, cioè di grande positività esserci in questa esperienza, essere e sentirla, essere presente e aver conosciuto una persona come te che ha realizzato questo insieme a Virginia E ne abbiamo approfittato di questa bellissima giornata per condividere un'esperienza nuova o quasi ed è stato molto piacevole ed educativo e speriamo di rivederci, vero? Una bellissima giornata, un'esperienza insolita, interessante e molto emozionante Ora avrò moltissime settimane di montaggio, post-produzione, rumori di sala che mi attenderanno ma ciò nonostante il risultato è stato ottenuto e si vede in modo evidente Grazie a tutti Grazie a tutti